Benvenuti in questo nuovo video sul canale. Come vi avevo già anticipato ieri sera, oggi siamo nel secondo video in collaborazione con Wargaming.net perché oggi sto per portarvi World of Tanks insieme a Martina. Diciamo che il video è veramente bello, è venuto qualcosa di davvero bello, mi sono divertito un sacco a registrarlo e vi invito ragazzi a scaricarlo anche a voi perché come vi ho detto ieri magari si potrebbero fare delle open lobby assieme. In descrizione trovate il link che vi aprirà una pagina web con un link vi invito nel quale potrete avere delle cose fighe come vi ho detto ieri. La schermata che vi si aprirà è appunto questa qua e ci sarà scritto activate your invite code, voi basta che fate activate perché appunto il codice è tanktastic. Se lo attivate ragazzi avrete dei vantaggi in game. Questi vantaggi sono molto simili a quelli di World of Warship in quanto avrete 7 giorni di premium account, 500 unità di oro, un caro aromato nuovo che avrò usato anche nel video ragazzi devastante quel caro aromato e degli slot appunto liberi. Ora ragazzi vi lascio all'overview del gioco mi raccomando lasciate un like e un commento e mi raccomando ragazzi link in descrizione per scaricare il gioco. Ok ragazzi eccoci sono in basso, sono in basso a destra però almeno volevo farvi vedere tutta la schermata di gioco prima appunto di iniziare col video. Questa è la schermata appunto che vi si apre quando accedete ai vostri, alle vostre credenziali. È molto semplice ragazzi è piuttosto intuitivo, sembra che ci sia tanta roba ma ragazzi ve lo assicuro che è facile. Questo ragazzi è il caro aromato che avrete tramite il codice di invito che vi ho lasciato in descrizione. E niente ragazzi si possono fare tante cose come per dire la manutenzione, se voi schiacciate qua potete fare una manutenzione diretta al caro aromato. Se schiacciate personalizza potete personalizzare il caro aromato con delle mimetiche. Queste mimetiche entrano in gioco quando appunto c'è bisogno di questa mimetica. Per esempio nella neve a me è partita questa qua, vicino agli alberi parte questa qua, insomma capite il senso. Potete mettere l'emblema, io ho messo l'emblema di Teilo che è bellissimo e potete mettere anche un'iscrizione, in questo caso ho messo un'iscrizione russa perché ci stava un sacco. Per scegliere il caro aromato è molto semplice, basta che andate in albero tecnologico e scegliete il vostro caro aromato in base ai tier. I tier che cosa sono? Sono la potenza del veicolo appunto del caro aromato. Io in questo video mi sono tenuto sui tier bassi anche per farvi capire un attimino il gioco come funziona. Qualora voleste comprare dei consumabili basta che andate in arsenale in alto a sinistra, andate su consumabili e comprate tutte le varie cose che potete comprare insomma. Nella sezione caserma in alto potrete mandare in caserma appunto del vostro equipaggiamento. Vedete il membro dell'equipaggio verrà trasferito dal veicolo alla caserma, faccio inviare la caserma e il bomber sarà inviato appunto alla caserma. A grandi linee vi ho spiegato le cose principali per iniziare a giocare a questo gioco, non è molto difficile ragazzi, io comunque come vedrete nel video non sono un pro player però mi sono davvero divertito un sacco a giocare. Se volete giocare ragazzi semplicemente selezionate il caro armato nell'albero tecnologico e poi fate battaglia. E niente ragazzi adesso noi ci vediamo in battaglia, io ho creato un plotone in alto a destra qui con Martina e abbiamo fatto il devasto, o forse no. Innanzitutto vai in arsenale, consumabili e comprati un pochino di kit di pronto soccorso, di riparazione grande. No, prima ce l'ho già io, sì sì. Ok, io l'ho già presi, l'ho presi pure prima. Personalizziamo ragazzi il caro armato francese, mi sento un botto carico. Allora io prenderei come emblema, stiamo la bandiera italiana, se c'è. Sul caro armato francese. Sul caro armato francese. Allora aspetta, c'è la... c'è, no non c'è. 45 dinari, la prendiamo raga, la prendiamo assolutamente. Singhiozzo, maledizione. E dall'altra parte faccio l'ACAB e prendo la bandiera finlandese. Perché noi siamo figli italiani. Ok. No, singhiozzo. Ragazzi, vi partite continua col singhiozzo. Dai che faccio il titolone. Kickbait. Allora, sai vero come si gioca? A me c'è un foto, perché se io faccio... E devi muoverti e sparare, da quel che so. Cazzo, non lo sapevo. Allora, la tattica è mandare avanti gli altri e muoversi in gruppo. Sì, lo so. E nascondersi. E nascondersi. Sai una cosa importantissime? Tu quando mira un caro armato ti si restringe la mira e quindi stai attenta che è molto più figo. Se si restringe tu sei importante. Bordello. Ah, inizi, andiamo a sinistra perché vanno gli altri a sinistra. Ma il mio caro armato quanto è grosso, Tina? E' enorme rispetto al mio. Guardami. Non mi schiacciare però. Guarda che distruggo le panchine. Non so, lo so. Ma il mio è lentissimo. Tina, devo... Che in via viaggia? Eh, se magari mi aspetti. Però il mio è per esistenza. Ma no, però sei troppo lento. Dai, che palle. Raga, sto volando. Eccoli lì. Oh, guarda che là ci sono già. Sai, schiaccia shift, schiaccia shift. Ok. Uh, meno 12, preso. Mamma mia, che volo! Sto volando, meno 30, perfetto. Oh, gli ho fatto un botto di danno a quello lì, eh. Guarda che ne esce uno, guarda che ne esce uno. Esce dronchi! Guarda che sono tutti lì dietro l'angolino. Mi sa che vengono lì dove sei te. Guarda che esce quello da 14%. No, sì. Non riesce a uccidere. Sta uscendo, non esce, non esce. È morto. Guarda che si avvicina qualcuno, mi sa, eh. Ci avviciniamo anche noi, cosa dici? Eh, io proprio... Guarda quello lì. Preso, ho meno 50, li ho tolto. Preso! Anche lui! Ma sono troppo forte! Guarda lo sto schifo si... Mamma mia! Guarda, ragà, sono tro... No, vi giuro. Aspetta, calma, calma, calma tutti. Ci vuole karma. Mi hanno colpito. Preso. Preso. No, mi stanno colpendo. C'ho pochissima vita. Preso, ucciso! Ciao, bomber! Attento, Marci! Guarda, come viaggia quello? Aspetta, aspetta, Tina. Ti è passato di fianco uno, l'hai visto? Ma non era... Oddio, oddio, oddio. Attento, attento, attento. Devo scappare. Eh, sono morto, sono morto, sono morto. Ci, sono morto. Mi metto in mezzo. No, 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 sono vivo, sono vivo. Mi sto salva... Non mi sono salvato. Mi ha ucciso uno! Eh, sono stato distrutto, Tina. Sono stato distrutto. Mi sparano, mi sparano, aiuto. Eh, vedi che ti ha cambiato la mimetica sulla neve? Ah, regà! Parliamone. Siamo con la mimetica bianca. Siamo sulla neva, c'è la neva. C'è la neva! Allora, vediamo di fare bella figura Con questo Valentine 2 E secondo me ce la possiamo fare Però, non garantisco niente Perché io sono scarso No, infatti io sono un sacco forte Quindi tranquillo, vado davanti io Che facciamo un po' tutto Io sai cosa farei? Io andrei a sinistratina Andrei verso le case Mi mettezzerei lì dentro Mi seguo Vediamo un po' Io li ho sparato Oh, non gli faccio niente Non è possibile Non gli facciamo niente Oh, ma questo è sparato qui Attento Vain dietro, vain dietro Occhio, lì, lì Preso, meno 47 Guarda che muore, guarda che muore Guarda che muore Ahia, mi sparano Preso, meno 128 Sparano L'ho ucciso Ok, c'è da uccidere quello in fondo Aspetta che io sono Ahia Ucciso, ucciso, ucciso Sto volendo Vai via, vai via Vai via, vai via È il 2%, Tina È il 2%, Tina Vai dietro di me Vai dietro di me Ho usato il kit Eh, l'ho usato ma Aiuto No, levati Farci Ah, sono viva Sono semplicemente davanti Ok, l'abbiamo ucciso L'abbiamo ucciso sti due Mamma, Tina Che forci Che c'è uno qua dietro Guarda che va giù Eh, cosa ha usato? L'ho ucciso L'ho ucciso Calma, raga Calma Calma, 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 calma Raga, violenza Ci vuole violenza in questo caso Uccidi, uccidi Oddio, mi ha mancato Se mi prendeva morivo Ma dov'è? È là davanti, lo vedi? Quella 69, intendi? No Non riesco a leggere quanto ha Ecco Sì, l'hai colpita No, l'hanno colpita L'hanno ucciso, mi sa Guardalo Io mi riesco a leggere di lui No Sono morta Porca miseria Ok, ci sono solo io vivo Perfetto Grazie, eh Grazie mille Eh, sei rimasto l'ultimo Della squadra Contro quattro Fattibile, dai Oh Eh, sono morto, raga Però me la sono giocata Un botto bene Bella, è stata bella Ho fatto Quante chi l'ho fatto? Non si va a vedere Aspetta Wow, 52 Ne ho ucciso uno Uno Non fa niente Questo lo taglio Però è Sono stato abbastanza bravo, raga Ci stava Ci stava Ci stava Bravo Io prendo il T-127 Il T-127 Con un'epoca Sì, prendi il T-127 anche te Della 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 X-Vinone Sovietica Prendi quello Ci sta Che bello Ragazzi Ma Che bello Prendo quella bianca Io ci metto la bianca bianca E ciao a tutti No Ho voglia di volare Te lo giuro che ho voglia di volare Che bello Ma guarda Con un carro armato Non lo trovo difficile Voglio volare Dove andiamo? Ti vola Io starei qua in zona Però No, non mi piace andare Facciamo andare avanti gli altri Ma no Puoi andare avanti gli altri Guarda questo come viaggia Ecco Mi sei andato a casa Tuttiamo lui Sembra esperto Grande porti Portaci tu Una leggenda Del world of times Giocato Adesso ho proprio Di vederne qualcuno Di beccarne qualcuno Ma perché sparava A testo qua? Mi sta mirando uno Maia Dove sto andando io? Non vedo nessuno io Naggia E la madonna E la madonna Sì poi C'è sto ciccià Che è troppo forte E? Occhia ciccia Ma ma dietro di noi Ma sono dietro di noi Ma porca miseria Ma c'è il tento C'è il 50% Non mi riesco a muovere zia Riesco solo ad andare indietro Ma ci hanno fatto la Ma va fan cubo Tina scappa Ti conviene Per il tuo bene Aspetta Sto massacrando uno Anch'io colbus Ciao colbus Ucciso colbus Mamma mia Sto uccendo quello Bravo Ok abbiamo fatto fuori colbus Anche là Anche là guarda Dove? No Si è nascosto Di una collina Ok abbiamo fatti fuori Lassano comunque Siamo 6 a 1 Siamo Tina Grandi Guarda sono di là adesso Gli altri Mi segui? Il fatto è che io sono Al contrario ragazzi Quindi Aspetta un attimo Tina Vorrei andare dritto Stanno Non aggantare Occhio Tina No 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 Tina Torna All amarci Tina stai facendo una cagata Oddio quanti Come perde Tina Missione 1 di 3 Mi sparano Te l'ho detto di non andare così Ma cosa servono i consumabili Che non mi curano mai Vai vai Ce la fai? Guardalo Guardalo Salvador Salvador Oh qua non c'è più nessuno Gli hanno uccisi tutti Ci stiamo avvicinando Te l'ho uccisi eh? Eh ci stiamo avvicinando un sacco Mi sa che qua c'è qualcuno Eccone uno là Dietro di noi Dietro di noi No mi ha uccisa L'ho ucciso però forse no No al 100% Dove sto andando Tina Dove sto andando Non so mai Dove sto andando Mi sei circondato Attento Sei fottuto C'è il 26% C'è il 5% Eh vabbè Vabbè Dai vabbè Me la sono giocata bene anche questa Però forse la nostra squadra può ancora vincere eh Eh questo era un TR4 però Mi ha ucciso un TR4 Ragazzi Io sto vedendo una partita eh Cioè li stiamo arando Va bene che sono appena morto però Ce ne manca una la nostra squadra Ed è là in fondo col 22% Ce la fai ad uccidero Alex? Dai ce la puoi fare Alex? Ah Questa vittoria E questa vittoria dove la mettiamo? Dove la mettiamo questa vittoria? Certo vittoria Io non ho fatto tantissimo però Ho dato il contributo alla mia squadra Uccidendo il D Abbiamo fatto le istruzioni bellissimissime Ragazzi Spero che questo episodio vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un like e un commento E niente Fateci sapere cosa ne pensate del gioco In descrizione trovate il link Se volete scaricarlo Da Marcettina è tutto Bella Ciao a tutti